Mi chiamo Giorgio Moroni, ho 53 anni e vengo dalla provincia di Sondrio. Già a 16 anni ho messo quattro capsule sul davanti perché avevo problemi di denti. Poi altre tre, guardando i video del dottor Palmas e tutte le sue recensioni, mi sono iscritto al gruppo SOS, ho visto che le recensioni erano tutte ottime, hanno consentito che venissi in Moldavia e credo che adesso che ho finito sono felicissimo e credo di aver risolto questo problema. Ho trovato un chirurgo veramente professionale che in poco tempo mi ha installato gli impianti, mi ha tolto i denti che andavano tolti, ma ha dato dei consigli a riguardo alcuni denti da salvare. Ho trovato Nona, che mi ha sentito veramente professionale anche lei. Quando ho saputo che il mio protesista sarebbe stato il dottor Vasile, sono stato felice, anche perché lo vedo spesso sui video del dottor Palmas e quindi lo reputo una persona professionale ed educata e soprattutto ha capito il mio problema, ha capito le mie esigenze e mi ha seguito in tutto il percorso. Sono stato veramente contento. Secondo me la salute è la cosa più importante. E il sorriso quando ha a che fare con la gente, quando ha a che fare con gente che... E facendo il vigile del fuoco, quando la gente chiede il tuo soccorso, chiede il tuo aiuto, vuole trovarsi davanti a loro una persona educata e una persona di una certa immagine e quindi il sorriso per me è importante.